Voltiamo pagina, parliamo di Toyota perché nello scorso salone di Ginevra è stata presentata la FTBH, una concept car della cassa automobilistica giapponese, e Lilia Marcucci, in questo prossimo servizio, ci racconta tutti i particolari. Al suo debutto mondiale al Motor Show di Ginevra 2012, il prototipo Toyota FTBH è un veicolo full hybrid ultraleggero, con un peso inferiore agli 800 kg, studiato per abbassare la soglia dei consumi e delle emissioni nel segmento B. Il prototipo FTBH possiede le dimensioni dei veicoli del segmento B, con 3985 mm di lunghezza, 1695 mm di larghezza, 1400 mm di altezza e un passo lungo 2575 mm, motore benzina, due cilindri da un litro. Il design di questo nuovo prototipo è ispirato da 5 concetti chiave, studiati per ottenere un'economia dei consumi ottimali e la minimizzazione delle emissioni, la riduzione della massa, la riduzione della resistenza di guida, sotto forma di resistenza al rollio e di resistenza aerodinamica, l'efficienza della trasmissione, la gestione dell'energia termica e il risparmio elettrico. Unendo la straordinaria riduzione del peso, con caratteristiche aerodinamiche studiate nel minimo dettaglio, con la rigorosa riduzione della resistenza e con una trasmissione full hybrid semplice e allo stesso tempo molto efficiente, Il prototipo FTBH è studiato per offrire consumi pari a 2,1 litri per 100 km ed emissioni di CO2 pari a soli 49 g al km.